Ah! Ethan Winters, benvenuto! Non pensavo avresti sconfitto Donna e Moreau, ma in America sei sopravvissuto a peggio, hm? Mi piaci. Vorrei parlarti di Rosa e di Miranda. Oh, entra pure. Tranquillo, non è una trappola. Cosa hai in mente? Cosa hai in mente? Cosa hai in mente? Mia. La verità brucia. Aspetta. Il tuo piano è farmi fuori come gli altri. Così potrai salvare Rose, giusto? Io rivolgo mia figlia! Senti, tu non hai capito niente. Cazzo, sto parlando! Hai rotto il cazzo! Perdonami. Accomodati. Ascolta, Ethan ti hanno preso in giro. Ma di che stai parlando? Pensi che sia un gioco? Ho detto... Siediti! L'enorme stronza con il culo grosso. La matta con la bambola. Lo scherzo della natura. Non ci arrivi. È un test per vedere se sei degno di entrare nella famiglia di Miranda. Io non voglio far parte della famiglia di Miranda. Nemmeno io, ma eccoci qui. E io sono il prossimo, giusto? Mi fai fuori, prendi il mio posto. Becco il cazzo! Me ne sbatto dei tuoi problemi personali. Io rivoglio solo mia figlia. Sì, anch'io. Lo sai quanto è potente quella bambina. Anche Miranda ne ha paura. Fallo di nuovo, stronzo, e giuro che... Io e te, Ethan. Insieme possiamo salvare Rose e poi usarla per schiacciare Miranda come un verme. Mia figlia non è un'arma. Vaffanculo! Ultima chance. Non vuoi sapere che c'è lì sotto? Fidati. Correrò il rischio. Condoglianze. Cazzo! Merda! Piccolo cieco! Cazzo! Ma che cosa era? Sì, non vanno. Non No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie. 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 Oh, Ethan. Che delusione. Che sei? Pensavo che avremmo unito le forze contro quella stronza di Miranda. Che delusione, davvero. Ha costretto, tutti noi, a essere suoi figli. Siamo chiusi in questo villaggio. Che delusione. L'abbiamo servita per decenni. Una forza potente da distruggere. Una forza potente da distruggere. Questi sono i frutti del mio potere. I forze distruggono i demoni. È così che va il mondo. Non avresti mai dovuto rifiutarmi, Ethan. Che squilibrato. Oh. 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 Oh, oh. Grazie. 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 Dai un'occhiata al mio inventario. Ah! Va bene, qualcos'altro? Ti auguro una splendida avventura. Manca ancora molto. Ah! Miranda ci considera come dei bambini. Non le frega niente di noi. Niente. Non possiede più un briciolo di umanità. Devo distruggerla. Non mi interessano i tuoi drammi familiari. Non lo so. Ah! 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 Grazie. 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 Ancora? Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti